Pagina sportiva, benvenuti, apriamo con il Perugia Calcio. Oggi allenamento pomeridiano a Pian di Massiano per la squadra bianco-rossa agli ordini di Marco Zaffaroni. Domenica arriva il Lecco, il Perugia ci arriva con un paio di dubbi. Paponi è influenzato, Raimondi non è proprio al meglio. Oggi intanto all'antistadio c'era il nuovo preparatore atletico Francesco Bertini che ieri ha preso il posto dell'esonerato Ivo Pagliari. Per quanto riguarda l'allenatore non vi è nessuna volontà, anzi non vi è nessuna novità. Domenica in panchina andrà Zaffaroni che soffrirà di una momentanea deroga. Il calciatore Alessio Stamila ha incontrato la stampa. Dobbiamo vincere, ha detto, per tirarci i tifosi dalla nostra parte. Che Stamila, ricordiamo, ha anche detto che domenica la squadra non ha giocato contro Pagliari facendo anche capire come l'anno scorso tutto ciò non si fosse mai verificato. Sentiamo egli stesso ai nostri microfoni. Quest'anno c'è un gruppo che forse rispetto agli anni passati ci teneva e non volesse far fuori il misto, diciamo così. Perciò siamo scesi in campo un po' tirati. Per me è stato un buon pareggio alla fine perché comunque si perdeva. Quando si perde poi si pareggia per me è sempre un buon punto portato a casa. Domenica è forse una delle partite più importanti perché veniamo intanto da una settimana che sappiamo tutti cosa è successo e ancora adesso è tutta un po' strana come settimana. Però diciamo che noi dobbiamo stare concentrati alla partita perché l'Ecco è una squadra dura, veramente dura. Visto delle immagini vanno a 2.000 in tutti i sensi, dal primo al novantesimo. Quindi non bisogna farsi distrarre sicuramente da questo che è successo stasettimana perché per noi quello che conta alla fine è il risultato di domenica. Zaffaroni è un uomo, è un allenatore, è una persona che penso che non abbia problemi ad allenare perché comunque fino all'anno scorso giocava. Io l'ho incontrato anche da avversario e lui comunque ce l'ha sempre avuto un po' l'allenatore dentro. Poi mette tranquillità parecchia e forse in questa settimana è quello che ci serve sicuramente. E' quello che mi ha chiesto il mister e quello che penso che mi chiederà ancora Zaffaroni il fatto di sacrificarsi. Io lo faccio, poi sicuramente ci rimetto io anche agli occhi della gente, forse, non lo so, però io vado avanti, io penso alla fine di fare il bene del gruppo ed è quello che secondo me in questo momento conta di più che la prestazione singola. Beh ma questo non lo dico io ma è agli occhi di tutti che mancano i gol degli attaccanti, su questo non c'è dubbio, lo sanno anche loro stessi che purtroppo non si sbloccano perché poi alla fine secondo me è tutta questione di sbloccarsi perché un gol, due gol non ti fa sbloccare se lo fai una domenica e l'altro lo fai dopo cinque domeniche. Per un attaccante serve continuità e loro lo sanno. Quindi ci manca quello ma io sono fiducioso perché abbiamo quattro punte, una più forte dell'altra secondo il mio punto di vista. Quindi secondo me ci risolveranno i problemi sicuramente. Secondo me non pesa, nel senso che c'entra, uno ci pensa sempre perché stipendio è stipendio, ci mancherebbe altro. Però sappiamo che il 31 dicembre in qualche modo li prendiamo, quindi non dobbiamo pensarci. È normale che... intanto lui è arrivato, quindi già è una cosa in più che entrata. Poi pensiamo che il 31 dicembre entreranno altri due stipendi, però non ci deve assolutamente influire sulle prestazioni e penso che non l'abbia fatto sia in negativo che in positivo fino ad oggi. Con la tifoseria grossissimi problemi non ce ne sono mai stati e forse adesso è il momento quello di tirarceli dietro fino in fondo.